Semplice motore. Questo è probabilmente il più semplice motore della Terra. Quello che ti serve sono un forte magnete, una batteria, una vite e del cavo. Incolla la testa della vite al magnete. Sospendi la vite e incolla la sua punta al bottone della batteria. Grazie al magnete forte l'assemblato rimarrà appeso alla batteria. Prendi un cavo flessibile. Connetti un estremo alla base negativa della batteria. Con l'altro estremo del cavo tocca al magnete. Sorprendentemente il cavo inizierà a ruotare. Ruoterà molto molto velocemente.